Allora venga qua, venga qua la scongiura, la scongiura, la scongiura, la scongiura, la scongiura. Allora mi chiedo una cortesia, posso dire? E mi ricordo il vano, però la prima volta che il vano mi viene e mi dice E va! E mi ha mandato, eh, 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 devo dire qua, venga qua la scongiura, la scongiura, la scongiura. Allora, adesso mi devo ascoltare nella mia competenza e nella mia integrità. Qui, fermo, mi chiedo una cortesia, una cortesia. Signore, la telecamera che riprende da vicino, questo gioco mi sento il Magiboy e non posso fare brutta figura. Giusto? Lei è sano? Lei è sano? È sano? Io no. Ok, allora venga qua. Allora, vede chi è qui ha delle carte? Solo che la regia faccia vedere bene, io guardo le carte, le vedo o no? Ci vedi, è fantastico! Adesso, bravissimo, adesso con una voce potente devi dire quando vuole lei, stop, ok? Io putto giù, dai che mi vengono, come ci vuole, devo farlo bene. Per favore, quando vuole lei, mi dica stop. Stop, stop. Allora, donna di fiori, lei è d'accordo che io non la conosco, però pensi di una vera falsa. Ok, il discorso è questo. Lei ne ha fermato la donna di fiori. Spero che le telecamera riprendano, ora prendo proprio questo gioco, per esempio, la donna di fiori. Giusto? Adesso, io qui ho un mazzo. Una previsione. Questo gioco si chiama una previsione dell'universo. Quando vedo lei è tutto un universo. Ok, lei è pronto a questo miracolo, perché lei sarà ripreso dai tanti cellulari, dai tanti telecamere, ma sarà partecipare al miracolo che mi sembra dove ci vuoi. Un grande mentalista, mi credo, è mio fratello. Guardi, guardi davanti, io prendo così, questo non ci interessa niente. Mi guardi nella mia bellezza, per favore. Adesso, lei stesso mi ha fermato in questa carta e le faccio vedere che tutte sono diverse. È testimone oculare che tutte sono diverse? Sì o no? Bravissimo, venga qua perché mi scappa. Bene, se questa carta fosse la donna di fiori, è un miracolo. Sì o no? Giri lentamente e mi faccia, e ci parla. Piano. Signori, donna di fiori! Donna di fiori, signori. Ma lei, caro santo, ma lei con la sua mano che ha toccato il mondo, vede che sono tutte diverse? E le vede che sei formata l'unica carta al mondo? Io, signori, non ho parole. Venga, la compagna. Prego, signore. Piano, piano, vada piano. Che si fa male. Scusi, scusi, scusi. Che ne sono?